Luci al Dalmolin. Lunedì sera lo stadio di Arzignano ospiterà la sfida tra l'Arzi delle meraviglie di Mr. Bianchini e il nuovo L'Anerossi di Mr. Modesto. Il piccolo stadio Dalmolin rimesso nuovo quest'estate è già sold out. 1653 i biglietti disponibili bruciati all'istante, 1150 nella tribuna principale, 503 nel settore ospiti. Per l'Arzi una gara attesissima, per il Vicenza l'occasione di allungare la serie di vittorie per lanciarsi all'inseguimento del Pordenone. A trascinare i biancorossi sarà Ronaldo, l'estroso centrocampista brasiliano. Ieri sera ha rigorosamente calcio, ha detto che non è il momento di guardare la classifica ma solo di pensare a continuare sulla strada intrapresa col nuovo tecnico. E Ronaldo racconta quanto è bello segnare Almenti. Sentiamolo rispondere alla domanda dei telespettatori. Quanto è diverso giocare a Vicenza rispetto a Padova? Mi vogliono mettere in difficoltà. No comunque non c'è neanche bisogno di dirlo. Al di là della tifoseria proprio lo stadio non c'è paragone uno con l'altro. A me dispiace anche per i tifosi del Padova però veramente come stadio non c'è paragone. E poi Ronaldo racconta che un po' di tifo biancorosso si ritrova anche negli stadi brasiliani. Sai che io ho il mio nato che fa il poliziotto no? E nella mia città c'è la Sciapecoense, la Sciapecoa no? E quindi lui di domenica va allo stadio no? E ha trovato un adesivo della secondo me della tifoseria organizzata da Vicenza. Infatti mi ha mandato la foto.